Ieri la firma a Roma di un protocollo con cui il Ministero dei Trasporti, INAIL e Assoporti si impegnano a realizzare insieme attività di prevenzione di malattie professionali e infortuni sul lavoro nelle aree portuali. Le norme ci sono, vanno applicate, ma dobbiamo lavorare molto sulla cultura della sicurezza da parte di tutti i soggetti coinvolti. E' proprio ad Ancona una prima applicazione con un progetto integrato che coinvolge autorità portuale e INAIL. Si parte da un'analisi a tappeto delle tante attività che ruotano attorno al porto organismo complesso cui fanno capo attività di diverso tipo. Su quella valutazione poi si costruiscono gli interventi specifici che possono essere di formazione, di investimento in dispositivi, di condivisione di attrezzature o macchine innovative sulle quali può intervenire anche l'investimento di INAIL. Non solo Ancona, ma anche gli altri porti regionali sono interessati. Cantieristica, pesca, logistica, tante le realtà portuali da rendere omogenee sul tema degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali. La sicurezza si è raggiunta grazie a un cambio culturale. Non è più un'esigenza da assolvere, quindi un costo, ma è diventato un investimento e un punto di riferimento che ovviamente parte dal basso per arrivare fino in alto. Ad Ancona poi il discorso sul porto va allargato anche al tema dell'inquinamento, sottolinea il presidente della regione Acquaroli. Solo così, dice, si potranno superare i limiti dell'attuale scalo e garantirne l'integrazione con la realtà cittadina. Grazie. Grazie.